La promessa anticipazioni. Nei prossimi episodi della promessa, preparatevi a un colpo di scena che lascerà tutti senza fiato. Catalina farà una rivelazione devastante. Alonso non è mai stato suo padre. Ma non si fermerà qui. In preda alla furia, lo affronterà con una sequenza di schiaffi, rivelando una verità ancora più oscura. Prima di continuare, se vuoi rimanere aggiornata e ricevere in anteprima i video della promessa? Scrivi sì, nei commenti. Ricominciamo. Alonso, l'uomo che lei ha sempre creduto fosse il suo punto di riferimento, ha segretamente ipotecato l'intero patrimonio della famiglia, rischiando di gettare i Lugian nel baratro della rovina. Ma come reagirà Catalina di fronte a questo tradimento? Sarà davvero disposta a perdonare? Nel cuore della tensione, Alonso proverà a placarla, implorando calma e cercando di giustificare le sue azioni. Catalina, ti prego, lasciami spiegare, dirà con lo sguardo implorante. Ma la sua figlia adottiva, col cuore spezzato e il viso segnato dalla rabbia, non vuole più sentire parole. Non un'altra parola, Alonso. Gli risponderà con gelo, annunciando che è pronta a lasciarsi tutto alle spalle. E proprio mentre Alonso la implora di fermarsi, Catalina farà una dichiarazione scioccante. Lo denuncerà al sergente Burdina, pronta a far crollare tutto ciò che rimane del prestigio della famiglia Lugian. Se anche tu sei sconvolto da questa rivelazione, lascia subito un commento qui sotto. Alonso dirà mai la verità a Catalina? Mentre la notizia della gravidanza di Catalina si diffonderà a macchia d'olio nella regione, le voci si faranno sempre più insistenti. La figlia di Alonso aspetta un bambino, e nessuno sa chi sia il padre. Le famiglie dell'alta società si riuniranno per discutere, con tazze di tè e sguardi complici, su come una famiglia una volta rispettabile sia caduta così in basso. E così, tra le panetterie e le piazze, le risate maliziose e i commenti crudeli si moltiplicheranno. L'onore dei Lugian, un tempo intoccabile, verrà trascinato nel fango. Alonso intanto si troverà di fronte a una sfida ancora più grande quando un vecchio amico, Lorenzo, lo affronterà senza preavviso. Cosa ti è successo, Alonso? La tua famiglia è derisa in tutta la città, e tutto per colpa di tua figlia. Con queste parole, Lorenzo farà crollare il fragile equilibrio di Alonso, facendogli realizzare che la sua reputazione i suoi affari e persino i suoi alleati stanno cominciando a prendere le distanze da lui. Nel suo ufficio, Alonso cercherà disperatamente una via d'uscita. Catalina è mia figlia, Lorenzo, non posso costringerla a sposare qualcuno contro la sua volontà. Ma Lorenzo non lascerà spazio a esitazioni. Devi fare qualcosa adesso. Ogni giorno che passa la tua famiglia diventa lo zimbello della regione. Costringila a sposare qualcuno. Trova una soluzione per quel bambino prima che sia troppo tardi. Le parole di Lorenzo risuoneranno nella mente di Alonso come un martello. Si sentirà umiliato, tradito e impotente. Il peso delle decisioni di sua figlia inizierà a soffocarlo. E in un impeto di rabbia inarrestabile, inizierà a distruggere tutto ciò che trova nel suo cammino. Le sedie voleranno contro i muri. Gli oggetti preziosi si frantumeranno al suolo. I servi, spaventati, non oseranno avvicinarsi. La rabbia di Alonso culminerà in un drammatico confronto con Catalina. «Cosa hai fatto alla nostra famiglia?» le urlerà, con il viso contorto dall'ira. Catalina però manterrà la calma guardando suo padre negli occhi. «Padre, abbiamo già discusso di questo. Avrò questo bambino, che ti piaccia o no. Non puoi costringermi a rinunciare a lui. Alonso non riuscirà a contenere la sua furia. Non sei nella posizione di fare scelte, Catalina?» le griderà, avvicinandosi minacciosamente. «Hai rovinato il nome dei Luian? E adesso vuoi continuare con questa follia?» Catalina, con una calma glaciale, lo guarderà fisso negli occhi. «Non mi pento di essere incinta, padre. Questo bambino è una benedizione. E nulla cambierà la mia decisione». Le parole di Catalina faranno perdere completamente il controllo ad Alonso, che la spingerà con violenza, facendola barcollare all'indietro. «Non ti permetterò di distruggere questa famiglia con la tua testardaggine. Ho già deciso. Domani arriverà un medico specialista. E farai come ti dico. Questo bambino non vedrà mai la luce». Ma Catalina, con il cuore in gola e il panico che cresce dentro di lei, non si arrenderà. «Non puoi farmi questo, papà. Non lo permetterò». Le sue parole risuoneranno con determinazione, nonostante la paura. «Questo bambino è mio e lo proteggerò a tutti i costi». Il confronto tra padre e figlia sarà teso, come una corda pronta a spezzarsi. Alonso, in preda alla furia, cercherà di avvicinarsi di nuovo, ma Catalina non cederà. «Non mi farai decidere per me, papà. Non più». Il silenzio che seguirà sarà pesante, carico di tensione. Catalina capirà che da quel momento in poi nulla sarebbe più stato lo stesso. La villa dei Lujan, un tempo simbolo di potere e rispetto, diventerà l'epicentro di uno scandalo che rischia di travolgere tutto e tutti. L'aria sarà carica di tensione e ogni respiro sembrerà un peso insostenibile. Nel giardino, Catalina cercherà disperatamente di processare tutto ciò che è successo. Non avrebbe mai immaginato che suo padre sarebbe arrivato a tanto. Ma ora sa che deve essere più forte che mai. Dentro la villa, Alonso, dominato dalla rabbia, si sentirà ancora più impotente. La sua vita, la sua famiglia, tutto ciò per cui ha lottato, sembra ormai perso. E ora, la domanda che tutti si pongono. Cosa farà Catalina? Deciderà di denunciare suo padre? Oppure, nonostante tutto, troverà un modo per salvare i Lujan dal crollo? Scrivi nei commenti cosa pensi che accadrà. Catalina riuscirà a proteggere suo figlio o Alonso troverà un modo per fermarla? Non perderti i prossimi episodi. Torna sul nostro canale per scoprire come finirà questa drammatica vicenda.